Supporto e disponibilità da parte della Chiesa di Verona per aiutare medici e volontari impegnati in prima linea nell'assistenza dei malati. Così sono nate alcune iniziative concrete, come ci spiega il provicario generale della Diocesi, Monsignor Cristiano Falchetto. Come Diocesi ci siamo fin da subito, dai primissimi giorni, interrogati come potevamo partecipare, dando la nostra parte di Chiesa a questa emergenza che stiamo vivendo ormai da varie settimane. Con il Vescovo e il Consiglio Episcopale abbiamo dedicato una riflessione apposita su questo, individuando delle azioni concrete che abbiamo poi posto in essere. La prima è un'esperienza attiva già da qualche settimana con Croce Verde di Verona. Abbiamo messo a disposizione alcuni spazi al polo pastorale Giovanni Paolo II di San Massimo, dove gli operatori di Croce Verde che sono chiamati in questo periodo a fare degli interventi particolarmente esposti per quanto riguarda il rischio dei contagi, non possono magari rientrare a casa per voler preservare i loro familiari e dunque avevano bisogno di un posto dignitoso dove poter riposare nel passaggio tra un turno e l'altro. Sono circa una decina, ad oggi, gli operatori di Croce Verde che valorizzano questi spazi che abbiamo messo a disposizione in maniera totalmente gratuita. Così anche stiamo concludendo, il percorso è ancora nelle fasi di definizione, alle stesse condizioni potremmo dire, perché è giusto così, in maniera totalmente gratuita, assumendoci addirittura anche noi l'onere delle spese vive, degli spazi un po' più ampi rispetto a quelli di Croce Verde per i medici dell'Ulsa 9 che hanno le stesse necessità, cioè di proteggere i loro familiari o che venendo nel piano di emergenza nazionale in aiuto da varie altre città ha bisogno di un posto dove poter trovare una stanza dove dormire e una zona dove poter riposare negli spazi tra un turno e l'altro. Queste sono le due attività che abbiamo già in essere. Con il prefetto stiamo studiando la possibilità di mettere a disposizione altri spazi per emergenze che si presentassero nel corso di questo periodo.